Partiti! Anche loro! Giuseppe Di Battista, Greco Nomi, Riccardo Scala, Aloisi Ornatto, Valofi Diego, Ilemini, Leonardo! Buona noia al comando! Superato leggermente in questo momento! Dalla terretta che è in seconda posizione! È una sfida all'ultimo sangue, sono tutti lì! Sono tutti lì! Guardate quanto spingono! Alla tecnica del 142! Paga! Riccardo Scala! O Scala! Ma vince! È lui! È lui! È lui! È lui! E vince questa mancia!